Buongiorno a tutti, siamo collegati dalla bellissima loggia dei cavalieri di Treviso nel corso del Festival della Statistica e della Demografia Statistic Hall giunto alla settima edizione. Questa mattina siamo qui per premiare i vincitori delle competizioni organizzate da Istat e SIS, in particolare iniziamo con la proclamazione dei vincitori delle Olimpiadi di Statistica, poi proseguirà la Società Italiana di Statistica con la premiazione dei premi di laurea per la Statistica. Iniziamo con la premiazione delle Olimpiadi, diamo qualche elemento di contesto. Le Olimpiadi italiane di Statistica si propongono di avvicinare gli studenti al ragionamento statistico, di suscitare il loro interesse verso l'analisi dei dati e la probabilità di metterli in condizione e di saper utilizzare le informazioni quantitative che arrivano loro ogni giorno. La competizione è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del primo, secondo, terzo e quarto anno. Gli studenti italiani che hanno partecipato sono sempre molto numerosi, tant'è vero che l'Italia per il secondo anno di seguito si è classificata prima a livello europeo, rispetto a tutti gli altri paesi che proseguono con la competizione europea. Quindi nonostante le condizioni difficili degli ultimi due anni, la numerosità degli studenti italiani è stata sempre decisamente lusinghiera. Allora, siamo arrivati all'undicesima edizione, quella che premiamo oggi è l'undicesima edizione delle Olimpiadi di Statistica. Approfitto per dirvi che il 20 ottobre lanceremo la dodicesima edizione in occasione della giornata della Statistica. Allora, le attività delle competizioni si sono svolte nell'anno 2021, ovviamente in modalità da remoto, quindi gli studenti che hanno partecipato, hanno partecipato dalle loro abitazioni, questo però non li ha dissuasi dal partecipare, appunto sono stati molto numerosi. Le prove si sono svolte dal 19 al 21 gennaio 2021, le prove individuali sono 20 domande a risposta multipla, somministrate online sui temi di statistica. L'Istat ha provveduto alla fase di organizzazione e predisposizione ai quesiti, la Società Italiana di Statistica ha effettuato la valutazione scientifica delle prove. Qui con noi c'è il professor Crocetta che è il presidente della Società Italiana di Statistica, la viceministra all'istruzione professoressa Barbara Floride, il presidente dell'Istat, il professor Giancarlo Blangiardo e il nostro referente della Società Italiana di Statistica per le competizioni, il professor Massimo Attanasio. Allora, vediamo qualche dato effettivo sui numeri della partecipazione. Allora, dunque, gli studenti italiani per la prova relativa al 2021 sono stati 3.377 su 10.700 studenti complessivamente iscritti da tutti gli altri paesi europei, quindi hanno rappresentato il 31,6% del totale. Questo vuol dire che comunque la competizione è consolidata e suscita interesse. Al secondo posto nella classifica dell'Unione Europea dei paesi partecipanti, come numero dei partecipanti si è collocata la Spagna con 1.335 studenti, collocandosi al 10,6%, quindi con una bella distanza rispetto a noi, e la Norvegia al terzo posto con 1.012 studenti rappresentando il 9,5%, quindi siamo saldamente al primo posto. Dopo la prova individuale c'è una prova squadre a cui hanno accesso le prime 30 scuole del gruppo primo-secondo anno e le prime 30 scuole del gruppo terzo-quarto anno. Le squadre che si sono classificate prime, le prime due squadre, per ogni gruppo hanno avuto accesso alle Olimpiadi europee. Se il professor Crocetta ci deve aggiungere qualcosa o il presidente, altrimenti andiamo con le premiazioni, con le proclamazioni. Allora, partiamo con i vincitori delle prove individuali. Partiamo con il vincitore della prova individuale del primo anno. Abbiamo il piacere di invitare sul palco Federico Forte, del liceo Nolfi-Apolloni, del liceo Nolfi, del liceo classico, prego Federico, vicino al ministro. Federico è uno studente nel 2021, studente del primo liceo classico, del liceo Nolfi-Apolloni di Fano. La docente referente è la professoressa Antonella Lauro, che però non è qui con noi, forse è collegata. Allora, Federico, complimenti. Sei stato il primo arrivato al primo anno, studente di quarto ginesio. Ci vuoi dire due parole sulla tua partecipazione, sul tuo interesse verso la statistica? Allora, il mio interesse inizialmente era rivolto principalmente alla matematica da un paio d'anni. In realtà è sempre stato così, però da un paio d'anni particolarmente. Così quando la mia professoressa mi ha proposto di partecipare, ho accettato. In realtà non mi sarei mai aspettato di vincere. Quindi è stata una bella sorpresa per me avere questa notizia. E non mi sarei neanche aspettato di essere qui oggi sul palco. Quindi doppia sorpresa. E mi ha fatto piacere. Molto bene. L'augurio è che ti avremo in uno dei nostri corsi di laurea in Scienze Statistiche, appena terminerai il percorso. Ricordiamo che gli studenti vincitori della gara individuale sono anche inseriti nell'albo nazionale delle eccellenze a cura del Ministero dell'Istruzione. Quindi appunto ricordiamo questa cosa. Grazie Federico per essere stato qui con noi. Allora, il secondo studente, il secondo classificato è collegato con noi e si tratta di Giuseppe Savie Somma del liceo Salvatore Pizzi di Capua, provincia di Caserta. La docente referente è la professoressa Rosa Rossetti. Credo che entrambi siano classificati. Possiamo dare un attimo la parola alla professoressa Rossetti, che dovrebbe essere in collegamento? Possibile? No. Va bene. Allora, grazie per essere qui con noi, professoressa Rossetti. Non è possibile darle la parola. Grazie anche a Giuseppe Xavier per essere qui con noi. Grazie. Allora, passiamo al terzo classificato. Si tratta di Luigi Castorina del liceo scientifico Galileo Galilei di Catania. A questo punto, che è collegato con noi, diamo un attimo la parola al professor Attanasio, che è stato uno studente di quel liceo. E sono molto contento che c'è uno studente di un liceo che invece ho frequentato io, un po' di anni fa, e che ci dà ogni anno delle ottime soddisfazioni, perché non è la prima volta che il liceo Galilei di Catania raggiunge queste posizioni alle Olimpiadi di Statistica. Grazie per la partecipazione. È il 20, riapriamo di nuovo il 20 ottobre le nuove Olimpiadi. Allora, ho dimenticato di dire, il docente referente è il professor Salvatore Messina, che iscrive regolarmente le sue classi alle Olimpiadi di Statistica, quindi aspettiamo il liceo Galilei anche per la dodicesima edizione. Allora, passiamo alle proclamazioni dei vincitori del secondo anno. Si tratta di una studentessa di un altro liceo siciliano, Giovanna Bellia, del liceo scientifico Benedetto Croce di Palermo. La sua docente referente è la professoressa Gaetana Bartolomei, che anche lei segue sempre le Olimpiadi. Il liceo scientifico Benedetto Croce, tra l'altro, ha sempre degli ottimi piazzamenti alle Olimpiadi e riesce sempre, le squadre riescono sempre ad accedere alle Olimpiadi europee. Allora, a questo punto passiamo al secondo classificato del secondo anno. Si tratta di Emanuele Manfredi Selvaggi, del liceo Alberto Romita di Campobasso. La sua referente è la professoressa Angela Saccone. Dovrebbe essere collegato da remoto Emanuele e anche la professoressa. Due parole anche sul liceo Alberto, sono tutti collegati. Anche il liceo Romita è un liceo che segue molto le attività di promozione, le competizioni e seguono molti processi di alfabetizzazione quantitativa. Sono decisamente una scuola di livello alto. Allora, passiamo al terzo classificato, Andrea Dell'Orto, dell'Istituto Badoni di Lecco. La professoressa è la professoressa Colombo, è il secondo anno che partecipano e si sono sempre classificati in ottima posizione. Passiamo al terzo anno con un veterano, Simone Spina, del liceo Cassini di Genova. Simone Spina era in collegamento, la sua referente è la professoressa Pesce. Al secondo posto si classifica Michele Tesser dell'Istituto Vito Volterra di San Donato di Piave. c'è lo studente, lo studente non c'è, però c'è la sua referente, la professoressa Gressini. Vuole passare un attimo qui, professoressa? Anche l'Istituto Vito Volterra segue costantemente le attività e la professoressa Gressini, ecco, è rimasto inquadrato Simone Spina del liceo Cassini di Genova. Allora, professoressa, grazie di essere qui. Si metta lì vicino al sotto. Che dire, noi dell'Istituto Volterra di San Donato di Piave, che è un istituto tecnico-tecnologico, ci siamo dalla prima ora con le Olimpiadi, siamo contenti di aver fatto questa esperienza sempre. è entusiasmante per i ragazzi, per noi comunque si inserisce nel programma, insomma, di studi delle scuole superiori e grazie anche alla collaborazione con le referenti dell'Istat territoriale abbiamo sempre partecipato, a dire la verità, anche con successo. Un anno l'abbiamo vinta e quest'anno abbiamo un secondo posto e poi la squadra che poi presenterete, quindi per noi è un punto fisso, insomma, e per i ragazzi è uno stimolo. Nell'anno scorso, poi, dove la statistica è stata, diciamo, ancora di più valorizzata nella sua valenza di interpretazione della realtà, con quello che è successo con la pandemia, tabelle grafici e tutto, erano all'ordine del giorno, per cui anche il programma di prima classe, delle superiori, noi l'abbiamo in qualche modo piegato facendo subito quegli argomenti di statistica in modo che tutto l'anno loro potessero avere un po' più di strumenti per, appunto, capire dove diavolo ci siamo cacciati con quello che era successo, quindi interpretando i modelli e gli studi che ci venivano dati. Non voglio essere lunghi, comunque siamo contenti di questa esperienza. e dico solo che speriamo anche che all'interno di Statistic Hall si continui a fare queste cose perché il festival è meraviglioso e ci auguriamo che possa essere spostato un pochino più in là per poter consentire alle scuole di partecipare perché cominciando il giorno 13 non ce la facciamo a portare le classi e le scuole nel fine settimana subito. non è un rimprovero, è una possibilità per i prossimi anni perché è troppo bello. La promessa è che ci saremo anche con l'ottava edizione, sulla data ci stiamo organizzando, grazie. Allora seguiamo con il terzo classificato, si tratta di Alessio D'Arcangelo del liceo classico sperimentale statale Bertrand Russell di Roma, lo vediamo collegato, lo vediamo in collegamento, grazie Alessio. Ci aspettiamo che tu possa partecipare anche quest'anno, si tratta del quarto anno, quindi è l'ultimo anno in cui potrai partecipare, ti aspettiamo. Un ringraziamento anche al tuo docente referente, il professor Giuseppe Rocco Casale. Grazie, ti aspettiamo per il prossimo anno. Allora, passiamo al quarto anno, quindi l'ultimo gruppo dei premiati della fase individuale. Il primo classificato è Andrea Sammarro del liceo scientifico Enrico Fermi di Cosenza, grazie Andrea di essere con noi. Ringraziamo anche la sua docente referente, si tratta della professoressa Carmela Ciardullo di Cosenza, anche il liceo Fermi di Cosenza ci segue costantemente da parecchi anni. Grazie Andrea. Il secondo classificato è un ragazzo della provincia di Belluno, si tratta di Mitia Boff, eccolo collegato con noi, del liceo scientifico dal Piazza di Feltre. Se non ricordo male, Mitia Boff si è classificato anche alle Olimpiadi di Economia, al premio di Economia, se non ricordo male, mi sembra di averlo visto. Il suo referente ci segue costantemente, questo grazie anche all'attività delle nostre colleghe del Veneto che curano molto la promozione. Il referente è il professor Valentino Condolucci che ringraziamo. Allora, la terza classificata del quarto anno è Clara Buttignon. Prego Clara, Clara è qui con noi, del liceo classico. Del liceo classico europeo Marco Foscarini di Venezia, la sua docente referente è la professoressa Roberta Salata. Grazie Clara di essere qui con noi. Certo, intanto vorrei ringraziare la mia professoressa che mi ha offerto di partecipare a questo progetto. Mi è sempre piaciuto fin dalle medie partecipare alle attività come giochi matematici o Olimpiadi Statistica. Anche ringrazio l'Istat perché partecipare a questo progetto mi ha fatto capire che mi piacerebbe continuare su questo percorso di studi che era un po' indecisa. Grazie. Allora, quindi potresti decidere di studiare Statistica. Perfetto. Ti aspettiamo, ti aspettiamo. Hai un'offerta formativa molto vasta, quindi l'augurio è di averti presto nei nostri banchi universitari. Complimenti. Grazie Clara. A questo punto ci sono le fasi a squadre, le classi che hanno vinto la competizione per le fasi a squadre. Le prime due classi, lo ricordiamo, le prime due squadre hanno avuto l'accesso alle Olimpiadi europee. Ad ogni modo noi abbiamo classificato sostanzialmente i primi cinque. Per quanto riguarda il gruppo primo-secondo, anche qui si tratta di un gruppo di un liceo classico che partecipava per la prima volta, il nome della squadra è Dux Femina Fatti, si tratta di tre studentesse, Anna Casini, Sofia D'Arpino e Maddalena Mizzoni del liceo classico, ecco le collegate, del liceo classico Turriziani di Frosinone, la cui referente è la professoressa, eccole qua le ragazze, sì le abbiamo incrociate via piattaforma quando stavano preparando le prove della fase a squadre, la referente è la professoressa Daniela Fratarcangeli. Le prove della fase a squadre, vediamo anche la professoressa collegate, erano un set di una presentazione su dati dell'Istat, quest'anno si trattava di dati, risultati del censimento con particolare riferimento al tema dell'istruzione. Grazie professoressa di essere con noi, al secondo posto la squadra Pinocchio, con due studentesse, Arianna Barbieri e Sara Brunetti ed Emanuele Giuliano dell'istituto Primo Levi di Vignola con il referente professor Francesco, il professor Matteo Giorgini che è un professore che ci segue costantemente, vedo qualcuno che è lì in collegamento. Al terzo posto si sono classificati gli studenti del liceo Torelli di Fano, Tommaso Banci, Alessio Cardinali e Luca Pezzolesi che probabilmente qui non sono collegati. Al quarto posto ci dovrebbe essere Rachele Amadio, ci dovrebbe essere una squadra in presenza, prego. Rachele Amadio, Davide Bodi, Alice Dalla Francesca con la professoressa De Poli dell'istituto Vito Volterra di Sandona di Piave. Grazie ragazzi per essere qui, se volete dire una parola, il professor Crocetta vi passa. Ringraziamo l'istat e la nostra scuola per aver partecipato a questo concorso, è stato bello, un gioco da cui abbiamo imparato molto e speriamo che l'anno prossimo riusciamo a ottenere un risultato come questo. Allora, al quinto posto si è classificato di nuovo il liceo Romita di Campobasso, sostenuto dalla professoressa Saccone, sono collegati da remoto con noi Emanuele Manfredi Selvaggi che abbiamo già visto prima, Francesco Maria Campanello e Francesca Leone. Allora, passiamo ai premiati delle classi terza e quarta, sono collegati con noi da remoto, la professoressa è la professoressa Sara Pittino dell'istituto statale di istruzione Brigno Leinaudi Marconi di Gradisca di Sonzo, in collegamento Giacomo Calligari, Smagliacetin e Jonathan Panigutti che da parecchi anni partecipano e si sono classificati lo scorso anno anche alle Olimpiadi europee. Al secondo posto abbiamo, in collegamento con noi da remoto, un liceo di Roma, Gabriele Piola Canna, Valerio Serra e Valerio Soriani del liceo Talete, sostenuti dal professor Tassoni. Eccoli, anche loro hanno partecipato anche alle Olimpiadi europee essendo arrivati al secondo posto. Al terzo posto abbiamo di nuovo Mitia Boff, del liceo Dal Piazza di Feltre, Lorenzo Bolzon e Sebastiano Giordano. Quarto posto, di nuovo il liceo classico, il liceo nazionale Foscarini, la professoressa Roberta Salata e di nuovo in presenza c'è qui Clara Buttignon che abbiamo già premiato. Al quinto posto di nuovo entra il liceo di Cosenza, il liceo Fermi, la professoressa Ciardullo in collegamento da remoto, gli studenti sono Giovanni Fanigliulo, Matteo Mercuri e Tania Rossi, ecco uno di loro. Grazie per aver partecipato e vi aspettiamo all'edizione del 2021. Allora, così si sono concluse le premiazioni, l'elencazione. Grazie, allora terminate, sì, un applauso penso che sia quantomeno opportuno. Così come il ringraziamento della Società Italiana di Statistica e dell'Istat per l'attenzione che le scuole dedicano sempre a questa manifestazione che riteniamo essere importante, proseguono le nostre premiazioni, in questo caso con l'attribuzione di un premio di laurea, un premio di laurea che è stato istituito dalla SIS insieme con l'associazione Oliviero Lessi proprio per ricordare la figura di questo statistico così importante. Abbiamo qui il piacere di avere in sala il fratello del professor Lessi che quindi saluto e ringrazio e ci ha fatto omaggio di alcuni volumi dedicati alla figura del fratello di cui avrò il piacere poi di dare una copia al nostro ministro e al presidente dell'Istat al termine di questa cerimonia e qui abbiamo il piacere di avere i vincitori di questo premio di laurea. Abbiamo la fortuna di avere ragazzi particolarmente bravi che hanno messo in seria difficoltà la commissione a cui vanno i ringraziamenti della SIS, una commissione fatta di colleghi particolarmente bravi, sempre attenti anche al mondo della scuola a cui vanno i miei personali ringraziamenti e quelli dell'associazione e abbiamo quindi il piacere di avere la vincitrice che Elena Bortolato ma quando dicevo sono particolarmente bravi, la commissione è stata tanto in difficoltà che oltre alla vincitrice ha pensato di dare delle menzioni d'onore anche a degli altri diciamo altri, altre è vero, tutte femmine quindi possiamo parlare altre. Prego, prego, si può accomodare? Io ci terrei che fosse il ministro a consegnare il premio prossimamente ministro, allora, dai, il sottosegretario, la dottoressa Bortolato, la vincitrice Bortolato, complimenti, vincitrice del primo premio. Io ringrazio innanzitutto il mio relatore, il professor Kenne Pagui che mi ha proposto di presentare il lavoro svolto in tesi magistrale a questa competizione, ringrazio la società che promuove il premio, che promuove ogni anno l'edizione di questo premio e la commissione giudicatrice che per aver valutato così il mio lavoro e poi di essere presenti. È previsto che faccia un commento sulla mia tesi? Io no, no, vi risparmio forse i dettagli. Grazie. Facciamo in cambio. Inviterei ora Silvia a venire sul palco. Anche lei ha avuto una menzione d'onore. Complimenti, anche a lei due parole. Grazie. Io ringrazio in generale la facoltà di scienze statistiche di Padova che consiglio ai ragazzi di prima e che ci fornisce le basi per poter partecipare a premi e competizioni di questo tipo. Grazie. Un'altra menzione è stata data a Sofia Curzio. Lavoro molto con il progetto Laurea e Scenica. Lavoro molto con il progetto Laurea e Scenica. Ringrazio, intanto è un onore essere qui oggi e aver ricevuto questo bellissimo riconoscimento per la mia tesi magistrale. Vorrei ringraziare in particolare il mio relatore, il professore Bruno Scarpa che mi ha aiutato nella stesura dell'elaborato e anche il mio correlatore che è stato il dottore Emanuele Aliverti. Ringrazio poi la società italiana di statistica per aver promosso questa bellissima competizione e anche l'Istat. Ecco, e grazie mille. Grazie a te, grazie a te. E in questa competizione un maschio c'era e quindi ecco perché non parlavo al femminile, perché abbiamo Luca Forlani che invitiamo quindi a venire sul palco. La grammatica è maschile. Sì, grazie per la menzione e per l'invito e anch'io ci tenevo a ringraziare i miei relatori, la professoressa Francesca Ieva e il professor Giacomo Aletti per avermi seguito in questo percorso. Grazie, complimenti ad Maiora come si dice in questi casi. Abbiamo poi, non penso sia collegata, ma la citiamo, Federica Spoto che è pure avuto una menzione d'onore. Abbiamo il professor Pavan, chiedo alla regia la conferma se abbiamo il professor Pavan che vuole dire qualche parola. Abbiamo pochissimi minuti, quindi ci terremo però a un saluto, a un suo commento. Il professor Pavan fa parte appunto dell'associazione Oliviero Olessi e ci farà un breve commento per questo premio. Prego. Sì, buongiorno. Buongiorno, non so se mi sentite. Purtroppo la linea è abbastanza problematica qui da me. Pronto? Può proseguire, la sentiamo. Sì, ecco, telegraficamente volevo dire che confermo che l'associazione Amici di Oliviero Olessi anche per l'anno corrente, quindi nel prossimo anno, darà il contributo per avere questo premio, in sostanza, quindi perché ci teniamo, è una iniziativa che ci sembra adeguata, ricordare il nostro amico Oliviero che è stato, come voi avete accennato poco fa, professore, docente di calcolo e probabilità a Padova e a Bologna. È mancato purtroppo in giovanissima età, ma insomma, noi continuiamo il lavoro sul territorio, quindi sì, certo, facciamo questa iniziativa con la SIS e nel contesto della statistica matematica, ma anche sul territorio con le scuole, in particolare del veneziano, a Campalto, della città metropolitana di Venezia. Bene, grazie. Un modo molto bello per ricordare questa figura e anche questo libro di cui faccio omaggio anche Presidente e questo libro appunto Il disegno di una speranza, un racconto che è appunto dedicato a questa figura di insegne studioso. Con questo penso che la fase delle premiazioni sia terminata e ringrazio tutti quanti per la partecipazione. No, 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 non ho parole di commento da aggiungere, se non prendere atto che noi nelle statistiche diciamo che appunto le ragazze sono meno presenti in certi corsi di laurea e nei risultati abbiamo avuto l'evidenza, no, che qualcosa sta cambiando e quindi noi prendiamone atto e siamo felici di sottolineare in questa occasione questo tipo di risultato. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie.